Pasqua e Pasquetta blindate anche in provincia di Pistoia, strade letteralmente deserte e controlli a tappeto di tutte le forze dell'ordine lungo le principali vie di comunicazione del territorio. E succede dunque che anche le strade più trafficate della provincia, proprio come queste, diventano in questa Pasqua un lungo nastro di asfalto completamente vuoto. Anche l'autostrada 11, che passa in questo tratto a pochi metri, risulta praticamente deserta. Un impegno notevole per la Polizia di Stato che nella giornata di oggi vede impegnati in servizio tutti gli agenti operativi, anche delle sezioni come la Digos ad esempio, che solitamente non effettuano controlli in strada. Abbiamo intensificato i controlli per la giornata di oggi con circa 110 pattuglie per tutta la provincia, che vede impegnato quindi personale sia della Polizia di Stato, quindi anche le specialità, Polizia stradale, Polizia ferroviaria, personale dell'arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale e Polizia municipale. Al momento la situazione è regolare, i cittadini stanno dimostrando grande senso di responsabilità. E per Pasquetta i controlli in strada saranno ancora più intensificati. Noi continueremo anche nella giornata di domani aumentando ulteriormente le pattuglie su strada, quindi sarà controllato sia il centro come anche oggi, le zone periferiche, caselle autostradali e stazioni. Consapevoli di chiedere un ulteriore ma necessario sforzo e ricordiamo a tutti di rimanere in casa. Colgo l'occasione per augurare a tutti una serena e buona Pasqua.